ciao ragazzi visto la bellissima esperienza di questi ultimi mesi lavorando insieme a tv play e parlando con tutti i ragazzi del calcio del nostro campionato e non solo sono qui per dirvi che ci vedremo anche il prossimo anno e continueremo questa bellissima esperienza con tv play e mi raccomando seguiteci in tanti ma soprattutto iscrivetevi anche al canale youtube tv play perché cercheremo sicuramente di allargarci ancora di più e di rendere ancora più professionale quello che è stato fino ad oggi quindi vi aspetto e mi raccomando tv play ciao ragazzi